No! Maledetto pugno! E' uscito il mio nuovo libro I sereni della magia in tutte le librerie d'Italia e anche su Amazon Vi lascio il link sotto in descrizione e mi raccomando condividete le vostre foto su Instagram Mi chiamo Lorenzist Ricordate di questa fantastica ruota che ho creato un mese fa? Bene, oggi sarà la mia sofferenza! La sfida di oggi non sarà una sfida semplice Non dovrò evitare di toccare solo un colore Ma devo evitare di toccare TROZZI COLORI! Cioè abbiamo il verde, il giallo, il rosso, il fucsia, il pink food Insomma, dobbiamo vincere cercando di evitare questi colori E siccome io mi voglio molto male Se prendo questo, devo shoppare Sì! Quindi metti mi piace Ora questo video è di iscriviti al canale e troverai una skin speciale Guardate ragazzi, la mia collezione è quasi completata Mi mancano due skin rare e poi una skin epica E ho completato tutto Cioè insomma, non esageriamo Non proprio tutto Che cosa devo guardare? Scusami E vabbè, ma è bravissimo! Applausi per Pink! Allora, prima di iniziare la sfida Io direi di fare 5 giri del ruoto della fortuna Così per riscaldamento Anche se ci sono 40 gradi fuori però 5 giri di ruota della fortuna epica Vai! Troveremo le due skin rare che mi mancano Uno! Perché io sono molto fortunato in questo gioco Altro che giro fortunato Ecco, quello sono io dopo questa sfida Diventerò uno scheletro Chissà se usciranno delle nuove skin in futuro Ho bisogno di nuove skin Non di sempre le stesse che ho 20.000 doppioni Guardate, doppione, 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 doppione Va bene Io direi di iniziare la sfida Chissà che colore uscirà Ecco la nostra foto della fortuna Qual è il colore che uscirà? Spero non questo Vai! Oh! Primo colore Il Fuzia! Quindi prima sfida Vai! No, 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 no No, no, no No, 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 no Pinguggione se è pronto Ok, dai Come primo livello Non ci devono capitare Pilot push O push Che se no ci push Ma l'ho preso in giro Vai Pinguggione Ce la puoi fare Non devi toccare l'altro colore che spunta È un Fuzia questo Un rosa Credo Va bene così Non tocchiamo il Fuzia No, no No, no, no No, no, no Pinguggione Ok, dare pugni agli scheletrini verdi Però Attenzione No, no No Ok Non toccare quel colore Non toccare quel colore C'è mancato poco Ok Vai Pinguggione Salta Qualificato Brava 92 minuti di applausi Primo livello Fatto Ok Passiamo al secondo livello Quali altri No Ok Ce l'abbiamo quel colore È il colore che vedete sopra la X Non dobbiamo toccarlo 3 2 1 Go Il Fuzia viola Attenzione Vai Pinguggione Ce la puoi fare No Non toccare il rosa No, non toccare la regina Elisabetta Pure quella È pericosa Scusami Ho sbagliato Non volevo sbagliare Dai forza Pinguggione Ce la puoi fare E vabbè ma quanta gente che sta avanti Non ti preoccupare Può arrivare ancora Primo No, 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 no Non aver paura Non ti devi preoccupare Ce la puoi fare Ok Manca veramente poco Non dobbiamo toccare quel colore Ok Non l'ho toccato Non l'ho toccato Va Ma dai Ma ero salvo Come Ce la facciamo Ci qualifichiamo No Cavolo per uno Vuoi shoppare 50 euro No Grazie Già ne ho troppe Altro che ruota della fortuna qua Ruota della sfortuna Mannaggia la miseria Questo era un riscaldamento Pronti ragazzi Partenza Colore Via Speriamo che esca tipo Non il verde Che colore è? No Non lo so Verde o celeste Credo sia celeste Infatti No Non devo toccare L'azzurro Eh sì Ma è impossibile È tutto azzurro Come posso aiutarti? No, no, no Siri Non mi aiutare Non è il momento Ovviamente il colore azzurro Vale per il pavimento del livello E gli ostacoli Ti prego Non Non è No Pingu Cosa vuoi fare? No No per favore Non ti buttare Lo so È difficile Ma non ti preoccupare Ce la possiamo fare Cioè metta delle mappe Sono di colore azzurro Come faccio a vincere una corona? Ma io ce la devo fare Quindi ti prego È bianco ragazzi Attenzione È bianco Preparati il pugno E dai pugni a tutti No, 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 no No Prepara dai un pugno a qualcuno Circa più o meno Beccati sto pugno Vai Salta tutto Salta tutto Salta tutto Il nome No, 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 no Ok mi devo Sì però questa E vabbè che salvataggio sulla linea Oh, oh, oh Ok mi devo qualificare Forza Pingu Ce la puoi fare Confide in te Attenzione Il trampolino azzurro Ma io salto Qualificato Avruzze Togo Forze No, niente Mago Merlino Ha fatto puff Primo livello Fatto Pingu si è contento Con calma Cioè nel senso Che tanto per secondo livello Sarà sicuro Azzurro Verde 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 Oste challenge Con i colori Veramente Sono un'agonia Passiamo al prossimo colore E speriamo di vincere Questa stramaledetta corona Ok speriamo Esca un bel colore Pronti Via Allora E' uscito già il celeste Devo sciopare Ma che mia utilità è di sciopare C'ho tutte le skin Tutte Va bene Dai scioppo Scioppo solo 800 gemme Anche perché ne ho troppe Quindi è inutile Mannaggia a te Vota della sfortuna Chissà se mi apparirà Bella faccia Proprio a me manca Bella faccia Bingu Si Scrivete tutte Nutte nutte Nella chat Ok mi manca Bella faccia Che non ci arriverà mai Ed è Atena Oh Bella faccia Bella faccia No Un troll Grazie Ora Basta Non voglio più Farmi prendere in giro Dei colori Dobbiamo Vincere Ora O mai più Prendiamole a pugni Sti colori Vai Ok ragazzi Questa la vedo difficile Io spero che Esca il verde Che è l'unico colore Rosso Rosso Devo evitare Di toccare Il colore rosso Gioca Speriamo in un livello In cui veramente Non c'è rosso Che se no Il rosso è il mio sangue Ok Attenti al rosso Questo lo posso fare Non è evitabile Cioè non è inevitabile Vai picco Non farsi superare Attento al rosso Ok non dovevo toccare il rosso Vai vai così Attento Quello è rosso Quello è rosso Ok c'è mancato poco Non aver paura No 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 Lo so che non hai paura Attento Mossata Ho toccato il verde Ho toccato il verde Da che ci siamo quasi qualificati Forza No 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 Olio di gomito Pingu Olio di Pingu No Se volete un po' di olio Extra vergine di Pingu Chiamate il numero sotto impressione Primo livello fatto Secondo livello Senza il rosso Beh a meno che non mi spunta proprio il v Si però non è giusto Quello è rosso No come faccio a vincere la sfida Non devo toccare proprio il rosso Cioè non ci devo proprio salire sopra le casse Non ti preoccupare Ce la possiamo fare No dobbiamo farci colpire dalle bombe Mamma mia ammazza che bomba Ammazza Ammazza Non ammazza mai però Ciao 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 anche te Lo vuoi un puglio Lo vuoi un puglio No Aspetta mi ha riconosciuto No God mi ha riconosciuto God Un abbraccino Si God Vieni qua con me Ok con calma Ok con calma Questo livello è stato amorevole Ok abbiamo un tentativo per vincere Mi sto spaccando la No la lava Proprio rossa Ok non dobbiamo cadere nella lava Ce la si può fare Sconfine in te Pingu Ok non farti colpire da nessuno mi raccomando Ricordatelo Attento No cavolo C'è mancato veramente poco Dobbiamo utilizzare bene La mia mossa speciale Ovvero il pugno Si vai Cadi Bravo così Attento ready stumble Ti dovrò superare in qualche modo In qualche maniera Dovrò farlo a cacera a terra No Polar si salvo Che fortuna Polar eh Che fortuna Ok No 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 ragazzi Non mi so salvato Non mi so salvato per niente No Maledetto pugno Beccati Non ci credo Non ci credo Ho vinto Come ho fatto Non ci voglio credere Ci è mancato poco Ho toccato la ragione Mamma mia Ok ragazzi Io direi che questo video di stumble guys Lo posso anche terminare qua Spero tantissimo che vi sia piaciuto E nulla Iscriviti al canale Se non l'hai ancora fatto Lascia un sacco di pollici in su Quale vostro Lo resiste È tutto E noi ci vediamo Ad un prossimo video E Ciao 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 Ciao